Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita, io con la sega camminando Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera Signori e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori e non li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Abro dire è il nostro nuovo disco in uscita il 19 marzo E' un disco che parla di noi in maniera molto sincera a 360 gradi Sia a livello di testi sia a livello musicale Infatti abbiamo deciso di registrarlo in presa diretta Per portare la dimensione live all'interno del disco Perché è la dimensione che meglio ci rappresenta Abbiamo annunciato le prime due date, le prime quattro date a Milano e Roma E sono andate sold out in molto poco tempo E questo ci ha convinti a annunciare poi proprio oggi tutto il resto del tour Voi che date l'anima al denaro Con gli occhi di chi è puro siete soltanto godardi E andare un passo più avanti Essere sempre vero Spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero E andare un passo più avanti Essere sempre vero E prometti domani Niente, siamo molto emozionati E vi aspettiamo anche a maggio per l'Eurovision Sound Cultist Grazie a tutti Grazie a tutti